Siamo in 671, il numero non si muove ed è lo stesso di quando sono entrato. Temo che non saranno problemi. Io ci sono, un minuto, un minuto alla partenza. 10. Via! E dimontiamo il gruppo! Che succede? Casi no. Che succede? 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 Grazie. 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 Vai. Direzione verso la grande scalata. Grazie. Voglio iniziare. 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 Grazie. 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 Schiaccia quel piumone, toglielo dai davanti, mi copro il vento. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e 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 a tutti. 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 a tutti.